La sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza che cercano anzitutto il profitto è dimostrata dalla distrazione o dal ritardo nell'applicazione degli accordi mondiali sull'ambiente, nonché dalle continue guerre di predominio mascherate da novi rivendicazioni che causano danni sempre più gravi all'ambiente e alla ricchezza morale e culturale dei popoli. Con queste parole Papa Francesco si è rivolto ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze ricevuti in udienza. Dinanzi alla minaccia di un collazzo ecologico e al conseguente aumento della povertà e dell'esclusione sociale, il Pontificio ha rimarcato l'evidente necessità che la scienza si ponga al servizio di un nuovo equilibrio ecologico globale. Troppo spesso, infatti, l'uomo si crede proprietario e padrone della natura, autorizzato a staccheggiarla senza alcuna considerazione delle sue potenzialità segrete e leggi evolutive, mentre in realtà dovrebbe collaborare per la conservazione e lo sviluppo dell'essere e della biodiversità del pianeta. Non solo responsabilità umana nei confronti del creato e delle sue risorse, ma anche ricerca della giustizia sociale e superamento di un sistema iniquo che produce miseria, disuguaglianza ed esclusione. Pensando al tema dell'acqua, delle energie rinnovabili e della sicurezza mondiale, Papa Bergoglio ha infine auspicato un sistema normativo che includa limiti inviolabili, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico producano danni irreversibili non solo all'ambiente, ma anche alla convivenza, alla democrazia, alla giustizia e alla libertà. Grazie a tutti.